o buongiorno a tutti quest'oggi faremo un video che avrà poche visualizzazioni e questo per dimostrare anche che non si fanno i video solo per le visualizzazioni nel senso che è ovvio che ho fatto un video su verlen che ha avuto 120 visualizzazioni ma credo sia uno dei video più interessanti che ho fatto naturalmente quel video su verlen resterà su youtube e quindi avrà un futuro nel senso che ha un suo significato anche fra due o tre anni mentre una recensione di un fumetto fra due o tre anni sì a meno che uno non c'è nel senso siccome escono tanti fumetti nel senso sono più utili addirittura le recensioni di fumetti quei killing che sono fumetti che non esistono più quindi è una sorta di storia del fumetto che può essere utile e interessante naturalmente ci si può attaccare all'attualità e naturalmente hai sempre più perché l'attualità è ovvio che suscita più interesse ma poi l'attualità l'antica legge del tempo l'attualità diventa passato e uno pensa vede le recensioni di fumetti di cinque anni fa che se ne frega cioè a certo punto rimangono un po' nel calderone youtube cioè possono essere interessanti perché naturalmente io per questo non parlo solo di fumetti quando parli di fumetti perché il fumetto dovrebbe essere anche una cosa per parlare nel senso uno stimolo uno come si chiama uno spunto di riflessione quindi anche fumetti che ovviamente fa dieci anni ma chi se ne frega però potrebbero essere degli spunti di riflessione naturalmente questo poi non lo pensi che vuoi ma naturalmente la recensione che faccio oggi è di un libro che ho trovato visto così non sembra tutto sto gran che sto libro è un'edizione di Rizzoli Tommaso Landolfi dialogo dei massimi sistemi abbastanza ben conservato è una prima edizione non prima edizione assoluta ma vista cioè quando si parla di prima edizione ti facciamo un po di bibliografia va visto di che cosa si parla qual è la prima edizione di Montale è quella che è uscita con Gobetti quella è la prima scusate di Osti di Sempre di Montale però dopo Gobetti insomma di prima edizione di Osti di Sempre sono in varie in varie in varie case editrici poi sempre la prima edizione poi è stata rimaneggiata detta così prima edizione non vuol dire nulla questa è la prima edizione del 75 la prima edizione della Rizzoli 75 la ristampa del dialogo dei massimi sistemi che credo fosse degli anni 30 super giussi credo sia degli anni 30 e che appunto era stata stampato in edizione fiorentina di quegli anni neanche credo la Vallecchi che è stata da sempre al punto di riferimento di quindi certamente è una prima edizione 75 poi dialogo dei massimi sistemi è stato ristampato anche in una non in singolo ma fu ristampato nel 61 mi sembra ora vi dico tutto perché è una recensione misteriosa vi faccio vedere questo Vallecchi non l'ho trovato c'è una cosa vabbè c'è un po' di mistero in tutto questo nel 61 fu ristampata un'edizione di antologica della Vallecchi che ripubblicava tutti i dialoghi più importanti alcune opere più importanti di Martin Misteri di Randolfi con due opere grafiche di Maccani pittore toscano post-anarchia che io non vi faccio vedere perché dovevo andare su a prenderla e mi fa fatica ma quindi c'è stata prima di questa una riedizione ho perso già il libro una riedizione dei dialoghi dei massimi sistemi ma come opera autonoma fu ristampata nel 75 e poi è stata ristampata ovviamente nel Diadelfi curati da Idolina Randolfi che era la figlia di Tommaso Randolfi di essere la figlia di Tommaso Randolfi era una cosa piuttosto scomoda Randolfi è stato il più geniale traduttore di letteratura russa in Italia senza essere mai stato in Russia avendo imparato il russo autodidatta e questo ne fa una delle figure più geniali quindi forse dirò qui, dirò qui e qui non lo nego, non lo nego assolutamente lo dico e non lo nego il più grande autore italiano di proseguono sempre superiore persino ad annunzio l'annunzio di cui poi prendo le orme dall'annunzio e quindi questa è una prima edizione abbastanza pregevole perché un tempo si trovavano nelle bancarelli io ne ho due o tre di queste erano in soli certamente non curate particolarmente dal punto di vista grafico in senso qui c'è un'introduzione dell'editore inizia con la ristampa del dialogo dei massimi sistemi e la pubblicazione dell'opera di Tommaso Randolfi i modi per riproporre ai lettori dell'opera di Randolfi erano svariati tuttavia poiché se è vero che i testi l'andolfiani godono di un'eccezionale fortuna critica ma di una scarsissima fortuna di pubblico questo ci deve anche far riflettere a noi di Youtube non è detto che chi fa pubblico ecco, Randolfi non era uno che faceva molte visualizzazioni non vendeva tantissimi libri ma certamente chi conosce l'andolfi non ne può più fare a meno di tanti autori leggi poi li abbandono ma l'andolfi no Randolfi te lo tieni per tutta la vita un autore che è difficile da scoprire difficile da leggere è un autore che ti piglia a scaffi nel muso di Remanzia a Siena ma proprio per questo è la fidetta affezione perché non fa niente per venirti incontro non altrettanto però è fortuna presso il pubblico al punto che certi suoi libri risultano pressoché sconosciuti al di fuori della scelta degli addetti al lavoro e del club di l'andolfià quindi questo così come egli li ha pubblicati al 37 quindi questo dovrebbe essere un dialogo del 37 dovrebbe essere su per giù contemporanea la pietra lunare eccetera eccetera il volume che raccoglie i primi racconti di Randolfi apparve nella collezione di letteratura quindi neanche nella Valletti la collana che i fratelli parenti editori di Firenze pubblicavano a fianco della rivista Monico in un'edizione originale 200 copie quindi è ovvio che chiunque avesse la prima edizione del 37 di letteratura avrebbe un'opera di valore da allora il dialogo dei massimi sistemi non è più stato ristampato in volume singolo per questo sta dicendo perché dice in volume singolo perché era stato ristampato nella raccolta di volume di raccolta di Vallecchi nel 61 questa è la prima risposta quindi questo volumetto piuttosto scacciato è la prima edizione singola del dialogo dei massimi sistemi di Randolfi dal 37 al 75 non era più stato ristampato quindi questa è una prima edizione non assoluta ma comunque la prima edizione naturalmente comprando un libro sulla bancarella a un certo punto a volte compri dei libri di solito a volte nei libri usati ci provi dei foglietti degli appunti perché di solito succede così scusate quando io morirò magari mia figlia botta tutto e ci saranno nei miei libri qualche appunto mio che sarà rimasto lì chissà che non è che gli appunti di Roberto Ventunini avranno un grande valore però in un altro libro e nello stesso giorno ma in un'altra libreria in un altro bancarella ho preso un libro che non c'entrava nulla tipo un libro sull'utopia inglese dell'Ottocente dal da Tommaso Moro all'Ottocente sto facendo questo gesto vuol dire questo gesto vuol dire non c'entra niente cosa faccio un po' di mimica che serve sempre e ho trovato queste due foglie uno di queste è rarissimo questo è un foglio rarissimo che era nel tuo libro era probabilmente Vallecchi in forma era il testo che a Vallecchi quindi questa è la presentazione che mandava agli editori probabilmente la Vallecchi non esiste più come casa editrice ma vedete questa è da incormiciare onestamente Con viva preghiera di pubblicazione l'Andolfi uno scrittore straordinario non so chi ha scritto questa cosa certamente qualcuno era la Vallecchi e c'è una presentazione di l'Andolfi che sarebbe e la Vallecchi aveva un cioè Vallecchi editore ci teneva molto all'Andolfi teneva un autore che non vendeva più di tanto questo dimostra come era l'editoria un tempo anche in Fiorentina cioè tenere un editore che non vende ma di cui sai il valore assoluto di l'Andolfi si comincia se ne comincia rari che l'Andolfi è stato apprezzato scusate da Montale era amico di Montale a Firenze Calvino che ha fatto l'edizione dei racconti della Delfi e più oggi poi prima di morire la figlia di Donina Landolfi che aveva un rapporto l'Andolfi non era un buon cioè non lo so è difficile l'Andolfi era un giocatore un personaggio molto cupo molto schivo non so se è stato un buon pare ma nel senso la figlia ha avuto una adorazione perché l'Andolfi era una figura affascinante di un fascino assoluto di una delle figure che io lo considero non l'avendolo mai conosciuto ovviamente perché morì molto tempo prima che io no morì quando ero molto piccolo molto tempo prima però ovviamente nel 71 72 non mi ricordo quando morì Don Dotti ma comunque quando ero ero ancora in tenera età ma lo considero come quasi il mio miglior amico mi ha detto si sembra una stupidaggine si nel senso che alcuni scrittori diventano i tuoi migliori amici diventano scrittori che a distanza di anni li rileggi e pensi si sta dicendo le cose che sto pensando anche io è difficile che uno scrittore resti per tanti anni nella tua testa se ne sono due o tre nella mia testa che sono restati sempre resteranno sempre uno è l'Andolfi un amico estetico e per motivi del tutto opposti e forse neanche opposti sono scrittori che non hanno presa sul pubblico non hanno presa sul pubblico perché se parleremo dei racconti comunque qui lo viene spiegato bene è l'unico scrittore al mondo che abbia imposto alla Vallecchi al suo editore di stampare sul risvolto dei propri libri risvolto bianco per desiderio dell'autore cioè di solito in tutti i libri c'era un tempo c'era risvolto nella scoperta con la foto dell'autore e poi un po' di biografia l'Andolfi voleva che non si dicesse niente quindi come pubblicità escono tutti i suoi racconti in un volume i racconti russi da lui magistralmente tradotti in seconda edizione anche nel risvolto di queste va bene i racconti russi ce l'ho anch'io quella è un'altra cosa ma anche nel risvolto dei racconti di Tommaso e l'Andolfi che escono in questi giorni in libreria si leggerà il luogo del consueto imbonimento cioè tutti se io vado a vendere qualcosa devo dire che la mia merce è meglio dell'altra cosa devo dire il mio libro fa più schifo leggete quello del mio vicino l'Andolfi diceva questo legge il libro del mio vicino non ne ha rompere scatami dopo legge non leggi solo fai te non mi rompere no questo vabbè del consueto imbonimento questa insolita e bizzarra dicitura io ce l'ho c'è un fogliettino dentro l'autore stanco del sentirsi attribuire dai critici o almeno dai più grossonani tra essi e in ogni caso da chi poco lo conosce la paternità o l'ispirazione degli iscritti per consuetudine stampati in questa sede i quali anzi lo trovano spesso dissenziente ha pregato l'editore di sostituirli soltanto di sostituirli con la seguente dicitura risvolto bianco per desiderio dell'autore cioè Landolfi diciamo come ha scritto i libri non era d'accordo su quello che scrive tutto sono racconti cioè quello che dice Landolfi se io scrivo un racconto tu lo interpreti come ti pare a te ma il racconto è un'opera letteraria quindi non è che non è un trattato di filosofia quindi se noi leggiamo il dialogo dei massimi sistemi la storia di Maria Giuseppa naturalmente naturalmente il protagonista ha molti detratti di Landolfi ma non è Landolfi e molti scambiavano cioè Landolfi metteva molto di sé nei suoi racconti ma non tutto e non era questi personaggi dei suoi racconti sono spesso presi in giro sbeffeggiati e certamente la descrizione per esempio di Maria Giuseppa del palazzo dove vive il protagonista era la descrizione del palazzo di Pio Farnesi Landolfi è una decisione continua che non ha nulla di propagandistico nessuno scrittore è più alieno di Landolfi dal far pubblicità la propria ovo cioè Landolfi era uno scrittore che non gliene fregava ci ascriveva per si stessi ci ascriveva perché doveva scrivere pubblicava anche ma non aveva nessun interesse se andate su YouTube dicevo esiste una sola intervista carpita da Leone Traverso che era un suo amico e vari altri che ha un premio a Urbino insomma gli fu dato un premio lui non andava neanche ai premi però essendo un giocatore accanito la roulette quei 5 milioni che gli facevano comodo e allora a quel punto mi dice sentite io vengo lì mi date questi 5 milioni però non mi fate cioè non dico niente e vado via a parte che sono altri ringraziamenti quindi era un tipo così eh ma lui ce lo feceva per i soldi per i soldi ma perché era un giocatore accanito quindi quei soldi poi saranno stati sicuramente rinvestiti a Monte Carlo chissà dove quindi era uno scrittore che scriveva scritto anche tanto non tantissimo di romanzi non sono tantissimi racconto d'autunno eh la pietra lunare qualche altro romanzo tra mi sfugge e molti molti racconti e per guadagnarsi la pagnota anche poesie Viola di morte il tradimento poesie di Randolfi sono sconosciute credo in Italia credo che non le conosco io sono le poche a averle lette sono molto belle tra l'altro e Viola di morte il tradimento e ci stavo dicendo e molti saggi letterali interessantissimi soprattutto sulla letteratura russa di cui lui a Firenze cioè a Firenze agli inizi del novecento no? io ora vado su Youtube e mi ascolto qualcuno che parla il russo un po' lui da solo con una grammatichetta imparò il russo ma lo imparò talmente bene da tradurre Google è come se io che vivo a Mosca mi imparo l'italiano talmente bene da tradurre Dante in russo capite? non è semplice sta cosa mh ah sicuramente scusate questa cosa che lui non faccia pubblicizzare sopra la presenza precedente almeno in questa forma non solo in Italia ma anche nell'estero l'americano non fa pubblicità non esiste non esiste proprio e dice l'indole bizzarra fantastica ribella a tutte le convenzioni dell'uomo che è per un animi consenso dei nostri più attentici e veri scrittori cioè Randolfi è un autore amato dagli scrittori più che dai lettori cioè il problema è che per capire Randolfi bisogna essere forse uno scrittore oppure uno che insomma con la lettatura ci ha bazzicato perché se no leggete questo libro lo buttate dopo due pagine lo buttate veramente dopo due pagine poi ci arriviamo però volevo farvi vedere e quindi ma non è solo questo che ho trovato è un ritrovamento per me eccezionale lo dirò in maniera dirò magica nel senso che come se ci fosse creato un collegamento cioè è ovvio che è casuale io ho comprato un libro una bancarella e ci ho trovato questo è casuale l'autore il proprietario dell'ex libro l'ha tenuto in biblioteca gli eredi l'hanno venduto Ancarellaro non è andato a guardare che c'è dentro e tra tante l'ho comprato io l'ho preso io natamente interessandovi l'Andolfi ovviamente subito ho fatto un balzo magari uno che non sa chi è l'Andolfi ha cartoccia sta roba e la butta via naturalmente tutto questo ci può stare però io ho l'illusione che nel senso che è quasi un messaggio su una bottiglia che l'Andolfi mi ha mandato e quindi ma non solo questo che c'è di meglio ho questo volume se lo trovate ora è difficilissimo di recuperarlo ma l'ho trovato 700 pagine fra due costosissimi quadri Temino Maccari gran parte dell'opera narrativa per il dialogo dei massimi sistemi il mare delle blatte che sono i scarafaggi la spada le due zitelle le due zitelle è un racconto bellissimo che ha anche un regime che ha un racconto di fantascienza Ombre che è un capolavoro assoluto e Ottava di San Vincent che sono Ombre io penso dei libri che più mi ha sconvolto della storia del di tutto ma non della dettatura di tutto Ombre è la mia infanzia è la mia perché l'Andolfi non è nato a Firenze è nato in una provincia provincia provinciale un autore di provincia quindi io mi ci ritrovo in quella atmosfera perfettamente Pochi libri hanno un fascino una verba una carica questa è stata scritta a macchina e poi il ciclo stilato vedo come questo di Landolfi che a quei tempi del 62 si sbatteva ancora a macchina si accorga finalmente di questo gran signore e il pubblico il pubblico non se ne è mai accorto ma come fa cioè vabbè non appartiene nessuna corrente nessun gruppo nessuna conventicola cioè Landolfi era Landolfi come Dante Alighieri non lo mette Landolfi da qualche parte lo mette a destra a sinistra non lo mette da nessuna parte Landolfi è Landolfi non c'è altro non c'è una categoria che di solito uomo Roberto Metticolini Bossini no lui non è nessuna categoria e lui è basta non sollecita premi non si cura della propaganda nel mondo letterale italiano è un personaggio che non somiglia proprio a nessuno è vero non somiglia a nessuno allora io questa cosa preziosissima quella io la ripiego poi la questa la faccio incorniciare questa è bellissima ma non è finita qui non è finita qui perché tutto questo mistero è magia e poi c'è un fogliettino è un fogliettino che eh ovviamente il libro è una bancarella calentina quindi ovvio che ora questo fogliettino mi crea ancora più problemi perché è scritto a mano è strappato da un convegno sempre del 61 suppongo è già è un invito Firenze 21 giugno 61 via Sant'Egidio la signoria vostra invitata la seduta pubblica che avrà luogo domenica a giugno alle ore 21 alle ore 11 per si locali del 61 eh sì vabbè sarà sembra sarà quindi offerta la tradizionale cioccolata chiusura dell'anno accademia 60 61 va bene qui c'era non so se è l'università o qualcosa Giacomo Devoto guarda è Instagram Giacomo Devoto e questa però che cos'è questa che sta questo foglio è stato utilizzato per scrivere qualcosa ed era esattamente del libro il libro che ho che nella bancarella era di Marsilio Marsilio Adriani un autore fiorentino sconosciuto anche lui sempre del 61 costava 300 lire ed è la recensione di questo libro ma mi chiedo cioè questa è proprio la recensione perché è una recensione si capisce questo qui questo pezzo di scrittura non è un appunto il libro di storia non è non è ripropone l'agile disinvolta operetta di Marsilio Adriani l'utopia universale studio in Roma nel 1932 si capisce che questo che ha scritto questa roba sta facendo una recensione quindi la scritta su un primo pezzo fuori di carta che gli è capitato alle mani e ovviamente c'è tutta la recensione di questo libro e si capisce che c'era una pagina prima una pagina dopo essendo legato a Landolfi siccome Landolfi faceva molto spesso recensioni in vari giornali faccia molto spesso recensioni perché ha fatto recensioni ovviamente su tutti gli autori d'Ulussi ma insomma non mi sembra su non mi ricordo su quale giornale pubblicava come anche oggi si pubblicano recensioni e quindi mi viene il sospetto che sia una recensione una brutta Covid una recensione in Andolfi se questo fosse vero ma dovrei prima esaminare la calligrafia perché forse sarebbe troppo come direbbe qualcuno troppa grazia di Sant'Antonio però mi farebbe piacere pensare tutto questo sarebbe piacere perché avere un autografo di Landolfi se permettete per me che sono un fan di Landolfi sarebbe come avere per uno che tifa Napoli che ne so l'autografo di Maradona insomma non so che non capite questa cosa qui non parlo di fumetti nel senso vediamo anche fumetti ma e veniamo al dialogo dei massimi sistemi è ovvio che il titolo questa non pregevole se vi capita una bancarella prendetelo subito non è la prima edizione del 37 ma quella di 200 copie del 37 è troppa grazia per carità vi può capitare la sta botta diciamo la francese sta botta nel senso che non sarebbe una botta veramente da boda che 200 copie credo che solo la biblioteca nazionale se trovi qualcuno può capitare io ve lo auguro di tutto cuore ma è più probabile che in qualche bancarella prima o poi vi incappiate incappate incappiate in questa in questa ah di John Alcott si qui ho anche il tradimento vabbè perché ovviamente dopo Vallecchi Randolph è stato dopo la la casa Vallecchi che l'ha pubblicato ovviamente fino agli anni 60 agli anni 70 dopo la morte venne pubblicato della Rizzoli mi sembra si nel 75 che la fosse già morta Randolph e niente e poi dopo la Rizzoli la FIA non amava molto queste edizioni che sono ovviamente un po' sciatte nel senso che non so edizione lusso però e poi la Delfi l'avete tutto ripubblicato cioè nella Delfi potete trovare tutte le opere di Randolph tutte la figlia credo di insegnarsi all'università ma la figlia era una donna bellissima anche perché sia Randolphi padre che figli erano bellissimi ma proprio cioè non è neanche dire leopardi uno pensa magari poteva fare l'attore del cinema Randolphi era un personaggio affascinante anche ci poche fotografie ma alto magro con due baffetti insomma l'autentico signore di provincia italiana non sape cioè questa categoria di persona è sparita non esiste più cioè io posso girare per Firenze non troverò questa categoria di persone posso trovare gente vestita meglio di me e ce l'ho poco ma anche quelli che sono vestiti bene che ci hanno tutto sono dei in confronto a Randolphi sono dei contadini della Valle di Chiana che si sono ricordi per la festa perché essendo io d'origine contadino un signore lo so riconoscere e il signore non il signore è il signore ma un signore non esiste più questo cioè in Italia abbiamo avuto delle persone di un'eleganza di un'affinantezza che noi oggi è impossibile anche immaginarsi che persone ci sono state ma proprio persone che anche se con un golfino così risultavano di una tale eleganza innata che qualsiasi inglese o francese o tedesco non gli arrivava neanche alle scarpe perché erano eredi di una tradizione rinascimentale oggi tutto questo si è perduto come è finita la mezzatria è finita anche questo però Randolphi era quel tipo di persona che io non riesco niente a descriverla perché nel semplice muovere una mano quella persona lì nel senso accendersi una sigaretta all'epoca si fumava quella persona lì ti trasmetteva una storia cioè capivi che dietro di lui c'erano 2.000 anni di storia l'americano ricco non c'era 2.000 anni di storia cioè io vedo gli americani che passeggiano possono essere vestiti ma sono dei cowboy rifatti nel senso io infatti l'avevo vestito da cattrone perché sono un cattrone ma nel senso non ambisco a queste categorie il suo braccialettino vedete le devo comprare nel senso però essendo figlio di contadini so riconoscere un signore questa è la mia non è che sia però questo so farlo ma non ce ne sono più quindi è una competenza assolutamente inutile perché non esistono più questo tipo di persone e ne ho conosciuti tutti sono persone che erano state educate ad un altro tempo ma lasciamo perdere quindi l'andolfi non dovete immaginare con leopardi no no poteva fare veramente l'attore cinematografico una persona di un fascino che c'è di quelle persone che tu vedi c'hanno un fascino tale che anche se tu non sapessi non avessi saputo che chi fosse stato l'andolfi ma tu ti inginocchiavi e lo adoravi come tutti quelli che l'hanno conosciuto da lì l'hanno fatto ma Montale ora Montale non è un tipo che si faceva impressionare facilmente Eugenio Montale Leone Traverso penso a tanti altri che basterebbe un discorso quindi veniamo quindi questa edizione dice vabbè parliamo un po' del libro che naturalmente se vi capita iniziate a leggerlo il lettore non avveduto lo butta subito perché è un racconto anche l'andolfi aveva il fantastico pregio di irritare i lettori cioè l'andolfi per amarlo prima ti piglia schiaffi per 5 o 6 pagine ma dopo ti piglia ceffoni ta 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 e quando ti ha preso a ceffoni se tu lo ami talmente tanto è il mio caso alla subito dici si prendimi a ceffoni si dovessi essere stato masochismo così sei una cosa masochista crebbe privé no ma veramente si prendimi a schiaffi ma continua a parlare voglio sentire quello che hai da dire perché l'andolfi ti umilia ti umilia con la sua grandezza ma proprio ti umilia e per questo non è facile la storia di Maria Giuseppe è la storia di uno stupro scusate il cavolo mi è scappato il francesismo ma la storia dice a me è la storia di un uomo che vive in un castello di Roccap per questo poi l'andolfi si arrabbia perché è successo davvero all'andolfi e ovviamente c'ha questa serba religiosissima talpia proprio pia tutte le domeniche a messa e ovviamente sente il bisogno di distruggere questa sua cioè non è è brutta Maria Giuseppe è una contadina brutta ma proprio brutta capite che i racconti di l'andolfi sono inquietanti ma di poco inquietanti c'ha quelle contadine che mi ricordo proprio brutta e lui c'ha questa cosa di sacrilege e blasfemia non so se e quindi ma quello stile di l'andolfi solo lui aveva solo lui e D'Annunzio hanno avuto questa padronanza nel secondo racconto si ricorre molto spesso temi rapporto con le donne molto sempre molto problematico l'andolfi aveva rapporti problematici con tutti con gli editori Vallecchi siccome Vallecchi è stata la casa editrice che per fortuna a Firenze all'epoca c'erano persone intelligenti all'epoca oggi non ci butterei la mano sul fuoco ma questa sembra una polemica che da sinistra non voglio fare la morte del re di Francia si doveva intitolare c'è il bagno c'è la morte del re di Francia clown ma rimanda molto spesso l'andolfi a parte Gogol che c'è questo gusto dell'orrida del mostruoso del 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 voler epatele bourgeois rimanda molto spesso all'autremont eccetera eccetera attori francesi racconti crudelli di ricordo come si chiamava racconti crudelli tutto quel gusto francese di epatele bourgeois ma in l'andolfi diventa ancora peggio perché questo è un nobile anche questo prendeva sempre nobili lui era nobile era ovviamente nobile era un principe in senso come Tommasi Nampius è diventato famoso perché non ha scritto cose così che in bagno sta in bagno a fare le sue cosine immagina tutto un racconto salgariano e tu inizi tutto questo racconto salgariano di avventure capisci che che è montato no? come se leggessi l'Aquila Steppe insomma miei prodi miei baldi andremo all'assalto e tu capisci che c'è qualcosa che non torna questo racconto a un certo punto questo è nel bagno che sta tutto fantasticando esce dal bagno quindi capisci che è stata tutta la sua luce la sua fantasia e poi il racconto si basa sul rapporto difficoltoso con una figlia figliastra eccetera eccetera però è sempre racconti racconti il racconto diceva Calvino è come uno che graffia con le unghie sul vetro e mi diceva no però quando hai letto questo racconto a volte disgustosi ma proprio disgustosi il male dei bratti degli scalafaggi per esempio il dialogo dei massimi perché si chiama il dialogo dei massimi sistemi questo romanzo e poi chiudiamo è ovvio che rimanda a un titolo il Galileo il dialogo dei massimi sistemi uno legge questi racconti e diceva che cavolo c'entra Galileo Galileo sapete che appunto c'erano i tre personaggi che discutono eccetera ed è il passaggio da un mondo medievale a un mondo moderno contemporaneo nel racconto il dialogo dei massimi sistemi che dà origine alla serie a tutta la raccolta si racconta qui faccio spore di un poeta che ha deciso di scrivere in persiano e quindi si affida a un marinaio inglese che gli insegna il persiano lui tutto contento comincia a scrivere in questa lingua e poi a un certo punto si rende conto Mandolfi è crudele eh si rende conto che questo marinaio non gli ha insegnato il persiano ma la lingua totalmente sconosciuta che nessuno parla Aga Magera Difura Natun Guamishun Sanitri ecco la lingua che funziona capite gli abissi di geni d'Andolfi io non so neanche spiegarvi ragazzi sto andando un po' a lungo perché l'Andolfi è difficile farlo cuore e in un certo punto dice ma io sto parlando una lingua che parlo solo io poesia bellissima che leggerò solo io e questo problema della comunicazione del fatto della lingua come codice della poesia la poesia se io mi invento una lingua mia e scrivo la più bella poesia del mondo che però posso leggere solo io in questa lingua ho inventato io è una poesia questa cosa qui o no? capite che gli abissi di cervello era quest'uomo chiudo qui perché siamo a 33 minuti e siamo andati oltre 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 tutto naturalmente questo video avrà pochissime visualizzazioni ma me ne frego altamente e consiglio ai miei colleghi youtube di fregarsi altamente le visualizzazioni poi qualcuno dice ma tutti stanno no tutti no scusate se permettete esistono persone come l'Andorfi so che è difficile per qualcuno immaginare che esistono persone come l'Andorfi però sono esistite esistono quindi ci sono persone che che fanno queste cose cioè questo video io l'ho fatto per mero piacere mio personale se come qui seguo l'Andorfi se qualcuno se lo vuole vedere questo video bene se nessuno se lo vuole vedere bene uguale con questo video passo e chiudo